Ad aprile al via il corso base di formazione per diventare fioristi, una professione che regala molte soddisfazioni ma che necessita anche di aggiornamento e formazione, come ci spiega il presidente dell'Associazione Provinciale Fioristi, Filippo Galeazzo. Noi insieme ad Ascom, insieme a Federfiori abbiamo cercato di organizzare un corso formazione. Il giovane che ha intenzione di intraprendere un'attività commerciale nella vendita di piante o fiori ha la necessità di frequentare questo corso appunto perché acquisisce nozioni base in ambito sia botanico che floreale, nella composizione e anche nella legatura dei mazzi. Alla fine di questo corso lui ha la professionalità e acquisisce una formazione che gli permette poi di partire con un'attività commerciale. Per chi è già del settore invece è importante conoscere un pochino quelle che sono le ultime tendenze. Questi corsi vengono sempre tenuti da degli esperti, da dei maestri fioristi nazionali e anche internazionali e quindi il fiorista ha sempre la necessità e il dovere di relazionarsi con questi esperti anche per delle nuove tendenze e per delle nuove idee. È necessario continuare a formarsi e cercare anche nuovi stimoli e confrontarci anche e soprattutto all'interno di questi corsi con degli esperti e con dei maestri fioristi. Grazie.